15 giorni di sospensione, una chiusura combinata al caviar bar sul lungomare di San Benedetto nei pressi del ristorante del Vice, mentre si indagava sul traffico di sostanze stupefacenti che aveva al centro Vladimiro Foddi, barman del noto locale. In queste due settimane i dipendenti hanno comunque ricevuto il loro stipendio, sebbene l'attività, fino a ieri, sia rimasta con l'uscio serrato. Oggi la riapertura con il titolare del locale, Vincenzo Magliulo, che tiene a precisare di essere completamente strano alle vicende giudiziarie di Foddi, che, altra precisazione, è un dipendente, non un socio del locale. È ingiusto soprattutto verso il locale. Noi il danno l'abbiamo subito, ma è il minimo come fatto economico, perché 15 giorni di chiusura di un locale comporta comunque una grossa esposizione. Il danno più grosso è quello che, ingiustamente, è venuto fuori all'immagine del locale che, incolpevolmente, si trova coinvolti in fatti che non gli riguardano. In questo locale non c'è mai stata nessuna attività illecita riscontrata. Nessuno dei dipendenti ha mai verificato o visto fatti strani. E da domani sera il Caviar Bar tornerà ad operare con un aperitivo gratis per tutti i clienti, passati e futuri. Ma a breve cambierà nome per non avere altre ripercussioni negative legate al nome di Foddi. La nuova denominazione sarà Symposium Bar. Noi ripartiamo con una nuova denominazione per dare un taglio anche ai sospetti, anche se è ingiusto, ma lo faremo per dare un volto diverso, un volto nuovo, per fare in modo che questo locale non sia conosciuto per le vicende di un dipendente, ma per quello che realmente fa.